Salve e bentrovati anche oggi al TgAlfa. Un romeno è stato arrestato ieri a Licata. L'uomo è stato sorpreso da passanti mentre picchiava la moglie per strada. Sentiamo in particolare in questo servizio. E' accusato di avere picchiato per strada la moglie. Si tratta di un romeno di 48 anni, arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Giancarlo Consoli. L'episodio, secondo quanto detto dagli investigatori, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sul ponte Federico II di Svevia, dove alcuni passanti hanno chiamato la centrale operativa per comunicare che un uomo stava picchiando una donna. L'intervento dei poliziotti ha ancora di più scatenato le ire dell'uomo, che ha aggredito anche gli agenti che, grazie anche all'intervento di una pattuglia dei carabinieri, sono riusciti ad immobilizzare l'uomo. Il romeno è stato così rinchiuso nella Camera di Sicurezza del commissariato di polizia di Licata, in attesa del processo per direttissima. Cinque uomini, alcuni con il volto coperto da passamontagne e altri a volto scoperto armati di taglierino, hanno rapinato nel pomeriggio di ieri la filiale della BPL di Corso Garibaldi a Racalmuto. I malviventi hanno portato via circa 50 mila euro. Sul fatto indagano i carabinieri. Il giudice di pace di Aragona, condannato all'ANAS a risarcire i danni subiti da un'automobilista, CS Questelle Iniziali, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 189. L'uomo era alla guida della propria Mercedes quando l'auto che lo precedeva investiva delle tavole presenti sulla propria corsia di marcia, che finivano col proiettarsi sull'auto di CS, frantumando il parabrezza e causando la perdita del controllo del veicolo. Il giudice di pace ha accolto la tesi del difensore di CS, l'avvocato Marco Patti. Nella sentenza viene dichiarato che nel caso di strade aperte al traffico è certo che l'ente proprietario, quindi nel caso di specie è l'ANAS, una volta verificato che l'evento dannoso è a causa di un'anomalia della strada stessa è sempre configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questi non riesca a fornire idonea e adeguata prova di non aver potuto fare nulla per evitare il danno, evocando il caso fortuito. Un agrigentino ricercato dal 2006 è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di Giuseppe Gandolfo Siragusa, di 57 anni. Il fermo dell'uomo è avvenuto a seguito di alcuni episodi di truffa messi in atto dall'agrigentino e due giovani studenti palermitani. I tre si spacciavano per promoter della società che fornisce l'energia elettrica, cercando di convincere a firmare il contratto i possibili clienti adescati nel centro storico di Prizzi. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, i militari dell'arma sono riusciti ad individuare le tre persone che arrotondavano con questa truffa. A seguito dell'identificazione hanno riscontrato che a carico di Siragusa appendeva un provvedimento di cattura per truffa commessa a Firenze nel 2006 e dovrà scontare una pena di otto mesi di reclusione. La giunta regionale preseduta da Rosario Crocetta ha decretato lo stato di calamità per il crollo di una porzione della campata centrale del Ponte Verdura lungo la strada statale 115 sud occidentale Sicula a Ribera. Il provvedimento è stato adottato con l'obiettivo di accelerare le procedure per il ripristino del viadotto. Scongiurata l'emergenza rifiuti a Lampedusa, la raccolta riprende dopo uno stop durato diversi giorni. Il Comune infatti ieri ha annunciato che sottoscriverà la scrittura privata con il raggruppamento di imprese che si occupa della gestione del servizio di igiene ambientale per assumere l'impegno a pagare al posto di Gesa. Lo farà non appena saranno apportati piccoli aggiustamenti alla bozza. A questo punto mancano soltanto Santa Elisabetta e Siculiana. Il resto dei comuni ricadenti nell'ambito di Gesa ha firmato le scritture. Oggi dalle 18 alle 24 e domani dalle 16.30 alle 21 in Piazza Matteotti gli esponenti palmesi di fare per fermare il declino. Il movimento politico fondato dal giornalista Oscar Giannino allestiranno un gazebo per informare gli elettori sul programma del movimento, consegnando anche dei volantini con i 10 interventi per la crescita. Riteniamo importante che i cittadini, soprattutto della nostra generazione, dichiarano i giovani esponenti del movimento palmese Ugo Farulla e Nicola Peritore, arrivino alle urne con idee chiare sul voto. Oggi più che mai importante per le future scelte del nostro Paese. Noi proveremo a dare l'esempio. Il presidente della Camera Gianfranco Fini, leader di FLI e candidato con la lista Monti, domani farà tappa ad Agrigento. Alle 15.30 al Cinema Assor per una convention, inaugurato in via Esseneto ad Agrigento, il comitato elettorale di Salvatore Iacolino, candidato al Senato nella lista di Grande Sud. Giuseppe Fortino, già presidente del Consiglio Comunale di Campobello di Licata, è stato nominato coordinatore cittadino di Voce Siciliana dal leader del movimento Michele Cimino. L'ex assessore provinciale Marino Ragusa e il consigliere provinciale Pellegrino Quartarano hanno deciso di abbandonare l'MPA per aderire all'Udc di Casini. Oltre ai due hanno aderito al partito diversi consiglieri comunali di Ribera, Giovanni Di Caro, Antonio Oliveri, Paolo Vacante, Alessandro Dinghile e il vice sindaco della città crispina Davide Caico. A Porto Empedo che i candidati del PDL hanno incontrato anche i pescatori. E sempre domani ad Agrigento giuggeranno anche Angelino Alfano e Giorgia Meloni. Mentre pare che debba saltare la convention con Berlusconi, sarà il segretario nazionale del PDL Alfano ad intrattenere rapporti con l'elettorato. L'appuntamento è al Grand Hotel dei Templi del Villaggio Mosea alle 10.30. Proprio in quell'assessore è previsto l'intervento di Berlusconi al Politeama di Palermo. Berlusconi potrebbe arrivare ad Agrigento solo in tarda mattinata. Con quest'ultima notizia ci fermiamo. Fermiamo appunto la prima parte del TG Alfa per poi riprendere con le altre notizie. Tanto sporta. Tra poco.